salve a tutti da frank watch recensione del dell'orient m force 2020 esattamente dopo un mese di utilizzo allora cominciamo con le dimensioni diametro cassa 47 mm contando sia la corona che le spallette quindi prendendo la misura in questa posizione qua il lag to lag e di 50 lo spessore e di 13 mm il passo del cinturino quindi da anza anza 20 mm allora partiamo dal presupposto che è un orologio ovviamente di dimensioni importanti paragonabile a un 6 cotuna come dimensioni quindi se già si parte da un polso piccolino è un orologio che non vi consiglio se avete un posto che non sia almeno da 17 17 e mezzo c'è il rischio dell'orologio cioè il lag to lag vi esca fuori dal polso e quindi diciamo che non sarebbe bello da vedere al polso diciamo che è un orologio per porsi un po più importanti però calcolando che io ho un posto della circa 18 18 centimetri mi sta abbastanza bene togliendo diciamo questo particolare che questo dipende da dalla fisicità di ognuno di noi l'orologio è un diver certificato 200 metri allora nel mio titolo ho dato proprio il titolo dell'incompreso perché essendo un diver certificato in una fascia di prezzo che si riesce a trovare tranquillamente intorno ai 300 euro diciamo che è stato un po snobbato o perlomeno se ne parla poco diciamo che non ha avuto il successo che secondo me merita orologio costruito veramente bene 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 ovviamente si vede che c'è lo zampino quello di di seiko perché come molti sanno la se la lorient moderna appartiene a seiko quindi possiamo ben vedere posso chi 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 ha all'occhio più attento diciamo quelli più centrati si accorgeranno che la clasp e l'estensione per la muta è identica a quella che montano molti seiko entry level moderni un attimino vi prendo un seco per farvi vedere per farvi il paragone questo è un seco turtle paddy come potete vedere sono praticamente identiche scatolette ed estensione per la muta sono praticamente uguali ora togliendo questo piccolo particolare come dicevo appartiene a seiko e quindi c'è lo zampino di di seiko su questi nuovi modelli ma stiamo restando che la orient ha tutto un suo stile e una una sua identità quindi tornando a parlare della della qualità dell'orologio la qualità è ineccepibile c'è l'orologio è fatto veramente paragonabile ai seco turtle di oggi c'è nulla da togliere quindi come orologio sicuramente ve lo consiglio a parte il particolare se avete posti troppo piccoli troppo esili vedete prima di acquistarlo di se avete modo di provarlo perché potrebbe essere un po' grandicello ho sentito dire anche molte lamentele che a molti non piacciono queste queste spallette di protezione che fra l'altro sono anche removibili ma toglierle avrebbe poco senso perché l'orologio perderebbe diciamo il suo perché la sua originalità come la maggior parte degli M4 la corona è contornata da questo anello rosso la corona è logata con logo orient vetro zaffero maglie e finali sono piene la clasp è la solida come dicevo come quella di seiko diciamo abbastanza semplice ma funzionale è veramente difficile da aprirsi da sola niente voleva essere questa una recensione flash di questo orologetto che ripeto per la fascia di prezzo ed essendo anche un diver certificato e che comunque ripeto ha una sua linea una sua storia per la orient degli M4 sono dei diver quasi militareggianti insomma che dire è un bello orologio ci sono delle varietà di colori quadrante verde con cinturino in gomma quadrante nero di recente sono uscite delle edizioni con quadrante arancione quadrante di un grigio che tende parte di un grigio chiaro al centro e poi andando verso l'esterno diventa quasi nero insomma ci sono tante versioni c'è neanche una versione con cinturino innato come colorazione posso capire che questo vino rosso potrebbe anche non piacere a tutti ma ripeto ce ne sono tante colorazioni ragazzi grazie per la visione iscrivetevi al canale lasciate un like se il video vi è piaciuto e alla prossima ragazzi questa è la prova luminosità dell'Orient Enforce come potete vedere la luminosità è eccezionale da calcolare anche nella stanza dove sto facendo le riprese non c'è un buio totale quindi nonostante che ci sia luce la luminosità riesce ad essere performante e ben luminosa grazie a tutti